Faremo uno spettacolo nostro, un put-pourri di personaggi che abbiamo portato nel corso degli anni in tutte le piazze e anche put-pourri, anche questa sera, lo faremo. Senza nulla a pretender. La pioggia non ferma l'entusiasmo, piazza gremita per lo spettacolo comico previsto ieri sera nel cartellone di eventi ludici dei festeggiamenti in onore della Madonna della Pace. La serata si è aperta con il fashion show della FAC Federazione Acconciatori Campani che hanno dato prova della maestria e della professione nata e coltivata sul territorio. Poi tante risate con Luisa e Floriana, meglio conosciute come Sex and Sud. Ed è un onore aprire lo spettacolo di Ditelo Voi, per noi. Sono degli amici, persone che stimiamo, dobbiamo dire forza cose buone. Assolutamente, se voi non li vedete ma stanno vicino, noi non possiamo fare brutte figure. Ecco, e Ditelo Voi che è così. Sul palco poi i Ditelo Voi che hanno animato la piazza con il loro spettacolo comico. Allora sì, siamo molto felici di essere qui questa sera per un motivo molto importante che prima di noi ci saranno Floriana e Luisa e le Sex and Sud. In realtà noi siamo ospiti di Luisa e Floriana. Sì, noi vorremmo essere molto di più di che ospiti. Anche amanti. Anche amanti, ci siamo proposti anche in questo ma non... Eh niente, non ci ha... Non ci ha chiappato. Non ci ha chiappato. Perché ve lo dico subito. Se vi toglie per caricchino così non ci sto. E tutte le loro... Guarda, c'è una miscina, fa laura. Faremo uno spettacolo nostro, un put-pourri di personaggi che abbiamo portato nel corso degli anni in tutte le piazze. Anche put-pourri, anche questa sera, lo faremo. Senza nulla a pretendere. Gli eventi proseguiranno stasera con il tanto atteso concerto di Franco Ricciardi che avrà luogo nell'area mercatale di Giuliano.